Gentili telespettatori, buona giornata. Dopo l'appello di Carlo Verdone si fa viva Natascia Ovei, l'attrice di Acqua e Sapone. Chi non ricorda il film Acqua e Sapone di Carlo Verdone? Era degli anni Ottanta, se non sbaglio, sì, anni Ottanta. Vi leggo il post che ha fatto Carlo Verdone che ha pubblicato sui suoi profili social. Dice che nel 1983 in questo mese usciva Acqua e Sapone, una delle commedie che mi riporta a tanti cari ricordi. Una bella atmosfera, la presenza efficace della Soralella, il roscio Fabrizio Bracconieri, l'amabile Florinda Bolcan e tanti trasteverini e testaccini come generici parlanti. La foto che state vedendo l'ho ritrovata qualche mese fa dentro un vecchio album ed è il volto della protagonista esordiente Natascia Ovei. La incontrai per puro caso nella mia agenzia in via dei banchi vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente. Natascia, nata a Beirut, aveva il papà americano, un musicista che viveva a Boston. Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all'epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia. Era elegante in tutto e la luminosità del suo sorriso non poteva non incantare. La convinsi dopo un lungo provino ad accettare il suo primo ruolo in un film. Sebbene fosse timida e riservata, ma riuscimmo nell'impresa e insieme costruimmo un duetto perfetto. Questa foto gliela scattaio sul litorale di Ostia durante una pausa di compagni di scuola e mi mette tanta nostalgia per la tirannia del tempo che passa sempre più veloce. Ora vive tra Miami e Parigi, credo, è sposata e dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti, ma le auguro ogni bene di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l'immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà a questo posto si farà viva, chissà. Auguro a tutti voi una buona serata, Carlo Verdone. E così il Corriere della Sera rintraccia l'ex attrice, perché non lo è più da parecchio tempo, e lei rimane stupita dal clamore, perché sono passati 40 anni dall'uscita del film. E così al Corriere della Sera che l'ha rintracciata, dice, ciao Carlo, eccomi, pochi eleganti come te, la mia nuova vita come volontaria per curare i felini, i gatti. Dice, sono stupita di tanto clamore, mi hanno chiamato amici dall'Italia per avvertirmi dell'appello di Carlo Verdone, che si chiedeva sui social dove fossi, eccomi, vivo a Miami e sono la sua Sandy a parlare dall'America con il Corriere della Sera e proprio Natasha, l'attrice protagonista di Acqua e Sapone. E proprio la risposta arriva al Corriere della Sera da una bella villetta con salottino esterno di Miami, dove Natasha, 56 anni, vive oggi con suo marito di professione medico reumatologo e il figlio David, 24 anni. Dopo Acqua e Sapone e compagni di scuola girati con Carlo e altri lavori per la RAI, alcuni sceneggiati, invece, mi sono trasferiti in Francia per amore di mio marito con cui ho conosciuto e ho costituito la famiglia che ancora oggi è tutto per me. I miei si sono separati, volevo una vita diversa, una storia che fosse per sempre. Così sono volata a Parigi e ho sposato il mio compagno nel 1999. Trovandomi a vivere una specie di transfert, il sentimento che avevo per il cinema si è trasformato in un amore assoluto verso mio marito parigino e il nostro ragazzo. Non sarà stato facile per niente, i parigini sono freddi, riservati, molto diversi dagli italiani, ma mi sono subito sentita appagata dai miei affetti. Ho voltato pagina. A volte ho provato con David a rivedere i film con me ragazzina protagonista, ma una pellicola come Acqua e Sapone ha un umorismo che in Francia non è così immediato, siamo diversi. Mio figlio poi parla poco l'italiano. Nostalgia, quando sono più malinconica succede che pensi alla carriera che avrei potuto fare e a cui ho rinunciato. Vedo tante mie colleghe da allora che oggi sono attrici affermate, ma quando mi sento bene sono felice del successo che ho avuto e penso, oh my god, oh my god, la ragazzina di quei film ha dato forma alla donna, che sono oggi. Come andò con Vertone, lei era una ragazzina di appena 15 anni, 16 anni compiuti sul set. Lui un regista già affermato, io mai avrei pensato di poter lavorare nel cinema, avevo difficoltà a comunicare, ero piuttosto riservata. Mia madre, di origine olandese, per avere un ricordo dei miei 13 anni, mi portò un giorno a fare qualche scatto in bianco e nero da un fotografo, che le consigliò di proporre il mio volto alla pubblicità. Così feci qualche spot, ma rimanendo muta. Dauranecram, per un prodotto contro la forfora, mi scartarono perché dovevo dire una frase, ma non riuscì a proferire una parola. E mamma, per sbloccarmi, mi iscrisse in una scuola di recitazione. Quando feci il primo provino per Carlo Verdone ero già capace di recitare qualche battuta. Alla prima selezione gli diedi una mia foto in cui comparivo, truccatissima, per una rivista di abiti da sposa e fu in quel momento che scattò in lui la molla, incarnavo la perfetta donna bambina. Mi disse poi di aver scritto la sceneggiatura tenendo davanti a sé quell'immagine. Quando mi presentai al secondo casting mi prese, aveva già visto centinaia di ragazze anche nel nord Italia. In comune io e lui avevamo anche la scuola, il Nazareno a Roma. La famosa scena del bacio, dice, beh guardai, guardi, del set mi ricordo soprattutto le grandi risate. Si scherzava sempre, in quell'occasione c'erano attorno a noi decine di tecnici e operatori, mia mamma sempre presente. Oggi non so se sarebbe possibile girare un film di quel genere, ma non c'era malizia in acqua e sapone, solo tanta tenerezza. Poi si è trasferita qualche anno in America con la sua famiglia. Una mia sorella vive accanto a me, l'altra in Oregon, mio padre era di Boston, io ho la doppia nazionalità. Con la mia famiglia però abbiamo scelto di vivere a Miami perché è più vicina al nostro spirito latino. Mi trovo bene anche se ho un posto da matti, dice il romanesco. La città è piena di gatti, molte dei quali non sono sterilizzati, che vivono in condizioni di estrema necessità, non hanno da mangiare, non hanno un riparo. Così con altri volontari ci occupiamo del loro sostentamento. Io stessa ne ho sei, infatti alcuni vanno e vengono, nel salotto durante l'intervista. Ci sono anche due orsetti lavatori e qualche opossum. Mio figlio, come tutti i genitori pensavano per lui un futuro di medico avvocato, invece è diventato un film producer. Si vede che era destino. L'Italia dimenticata? No, torno due o tre volte l'anno, anche perché mia mamma la adora e si è stabilita a sud di Napoli. La prossima volta andrò a trovare anche Carlo, intanto può stare sicuro che lo contatterò privatamente, dai social mi tengo alla larga, non ne ho bisogno. Se inizi a usarli non smetti più come il computer. Va bene così. Ma tutta questa attenzione per me, questo intervento così carino e elegante di Carlo a proposito di un film uscito 40 anni fa, forse le persone hanno bisogno di leggerezza con quel che succede nel mondo, di serenità e di evasione. Io in macchina, con la mia usb la memoria, ho proprio la canzone di quel film, Acqua e sapone, no? Donna bambina. Grazie a tutti e arrivederci a presto.